Mi sta piacere, complimenti, io sono il salutatore, per me è un grandissimo onore perché tu sei veramente un mito e sei fantastica Loretta, io ti seguo sempre. Grazie, sono gentile, grazie. Io ti volevo chiedere un saluto per tutti i tuoi fans che ti seguono. Ah, e beh, naturalmente io se sono qua ancora alla mia tenera età lo devo ai miei ammiratori. Non sono stata aiutata da nessuno tranne che dal pubblico, quindi vi amo passamente e vi ringrazio. Io ti ringrazio e su Facebook ti seguono tantissimo, ci sono tantissimi fans club, ci tenevano tanto e ci tengo anch'io. E ho una sorpresa per te, io come salutatore regalo sempre una manina ogni tanto del salutatore, questo è pure Papa Francesco Loretta. Ciao. Oddio, un po' brassena io con questa volta però. No, no, per ditti brave persone come a te. Ciao, grazie.